ciao a tutti amici di Samaricato2con oggi faccio uno spaghetto coi gamberoni li ho trovati al mercato belli freschi bellissimi erano pure in offerta per cominciare metto un paio di spicchi di aglio a soffriggere con un pochettino di olio e ho messo l'acqua salata a bollire ho preparato 110 grammi di spaghetti e adesso un attimino che incomincia a fare il soffrittino di aglio benissimo adesso ho gettato la pasta in acqua salata guardatevi sempre adesso che si è fatto un pochettino scaldare l'olio con due spicchiettini di aglio metto dentro i gamberoni una meraviglia basta un pochettino la fiamma faccio saltare bene in padella e fila del cuocere in una man è molto veloci della pasta di giro perché stanno bene girati benissimo così anche l'ultimo che non si vuole girare ma eccoci qua tolgo l'aglio due spicchiettini di aglio non tolgo benissimo metto un pizzico di sale e poi aggiungo anche un cucchiaino di curcuma di quello che porto dalla tailandia è sempre piacevole togliamo la pasta faccio cuocere qualche minuto adesso i gamberoni li bagno con un filo di vino bianco così non si asciugano ma vanno avanti con la loro cottura poi aggiungo anche un poco di prezzemolo di quello ci sta sempre intanto i gamberi fanno il loro sughettino che poi ci mettiamo gli spaghetti la pasta continua a cuocere lo spaghetto noi continuiamo a girare i gamberi è una bella cottura uniforme ho lasciato attaccate le teste perché proprio da succhiare sono buonissime fare l'estetica sono buone da succhiare certo però il gambero l'ho tagliato in pancia con le forbici così poi si fa si fa meglio a a mangiare la polpa della coda benissimo lo spaghetto è cotto adesso lo promette insieme i gamberoni abbiamo una bella mescolata perfetto così adesso procedo l'impiattamento ecco qua l'impiattamento fatto adesso ve lo faccio vedere quello qui bello spaghetto bello carico buon appetito a tutti e spero di avervi fatto le disvoglie è un bel piattino così è veramente buono ciao a tutti ciao 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 ciao